eventi abbiamo diversi eventi soprattutto per personale specializzato alcuni anche però per le per tutti noi insomma qui chiunque di noi può partecipare e dunque cominciamo da da un convegno sulla cardiologia esperienze cliniche in cardiologia interventistica il 27 gennaio 2018 programmato per questa data al base hotel di 90 di piave venezia per tutte le informazioni intanto vi do il riferimento potete andare su anco.it e si parla ovviamente di i trattamenti interventistici il trattamento interventistico delle malattie cardiovascolari ha acquisito un'importanza crescente nella pratica medica e nella programmazione sanitaria dal momento che queste patologie costituiscono scrivono gli organizzatori in tutto il mondo occidentale la prima causa di morte se in dubbio è il ruolo del medico di medicina generale nello stabilire in prima istanza il rischio cardiovascolare di un paziente altrettanto in dubbio il ruolo che deve avere lo specialista nel proporre e attuare trattamenti interventistici adeguati che affianchino la terapia medica per favorire un corretto e fecondo e utile soprattutto per il paziente rapporto professionale tra i medici di medicina generale e lo specialista cardiologo nell'interesse dell'utente ovviamente va sviluppato un interscambio continuativo sul piano culturale tra i diversi professionisti medici che cooperano nello stesso contesto territoriale ecco qui si parla ovviamente di multidisciplina più che di multidisciplinarietà di vera e propria collaborazione tra due diversi professionisti due diversi professionisti qualificati che hanno due ruoli diversi chiaramente che però vanno a trattare lo stesso utente lo stesso paziente la stessa persona e quando si parla di cura ovviamente non si può in nessun caso come dire sottovalutare anche il rapporto umano tra medico di medicina generale e paziente tra specialista e paziente e naturalmente per chiudere questo triangolo manca l'intersezione tra medico di medicina generale e specialista e ovviamente anche queste due figure professionali estremamente importanti entrambe per arrivare a risolvere i problemi cardiovascolari in questo caso ma di tutti i tipi che può avere un paziente devono dialogare tra loro e insieme al paziente stesso e questo convegno si propone appunto di favorire la collaborazione tra medici di medicina generale nella unità locale sociosanitaria e medici operanti nell'ambito delle diverse equip ospedaliere si tratta di una vera e propria riunione scientifica basata sull'esame di esperienze cliniche reali quindi su qualcosa che è successo realmente come si vuol dire tratto da una storia vera e sono naturalmente le esperienze che sono che possono essere più utili per poi arrivare ad avere un'esperienza positiva e dei risultati positivi positivi e vede la cardiologia interventistica aziendale protagonista ed è oltretutto un'occasione per discutere delle implicazioni cliniche con la presenza di insomma medici di medicina generale ripeto qua si parla di esperienze cliniche in cardiologia interventistica se ne parlerà al Besotelle di 90 di Piave Venezia il 27 gennaio 2018 per avere tutte le informazioni potete andare su www.anmco.it e sono proprio delle ore di formazione 6 ore di formazione con crediti formativi che valgono per anche i programmi di educazione continua per la medicina insomma di diverse discipline per medici e chirurghi specializzati in diverse discipline si va dall'allergologia ed immunologia clinica fino alle malattie metaboliche diabetologia all'ematologia e la radiodiagnostica quindi è aperto veramente a tanti tanti professionisti e tanti specialisti sempre dal sito Anco Ancona Napoli Milano Como Otranto punto it itinerari cardiopolmonari 2018 a Bolzano e sempre il 27 gennaio 2018 l'Eurac Research Conference Hall e Viale Drusio 1 a Bolzano si parla di meccanismi siopatologici di cuore e polmone che si intrecciano in diverse patologie ed è nell'ambito dell'ipertensione polmonare che negli ultimi anni è aumentato l'interesse scientifico per le nuove possibilità terapeutiche impensabili addirittura fino a non molto tempo fa abbiamo parlato di come la tecnologia pochi giorni fa con il professor De Rosa abbiamo parlato di come la tecnologia può aiutare nel caso del diabete mellito di tipo 1 e può aiutare anche nei casi di malattie cardiopolmonari come si parlerà appunto in questo convegno alla Conference Hall dell'Eurac Research a Bolzano e il clinico ha imparato a modificare il proprio atteggiamento nei confronti della patologia e di conseguenza ha migliorato la prognosi e soprattutto la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie cardiopolmonari sia nel caso di forme aggredibili con terapia medica sia di quelle aggredibili con approccio chirurgico e naturalmente naturalmente tutto è finalizzato a un solo obiettivo che è quello di migliorare la qualità della vita del paziente migliorare in generale l'esperienza e la salute e il benessere del paziente invece a Milano 22 24 gennaio 2018 e quindi questo fine settimana no appena finito il fine settimana dal lunedì a mercoledì perché 22 24 sarà da lunedì a mercoledì 2018 al Doria Grand Hotel di Milano si parlerà di gestione multidisciplinare multiprofessionale dell'OSAS in età adulta le informazioni intanto le potete ricavare su www.sipirs.it savona imola palermo imola rimini savona punto it e cos'è l'OSAS magari non tutti lo conoscono se ne parla soprattutto per quanto riguarda i temi anche di sicurezza stradale ed è la sindrome delle apnee anzi scusate mi ero confuso con un'altra sindrome che ha un'assonanza diciamo qua nel caso dell'OSAS si parla di sindrome delle apnee ostruttive del sonno ed è una malattia cronica ampiamente diffusa nella popolazione generale con rilevanti conseguenze sanitarie sociali ed economiche e i più recenti dati epidemiologici ottenuti in una popolazione adulta indicano una prevalenza del 49,7% nel sesso maschile e del 23,4% in quello femminile e gli organizzatori scrivono è stimato che circa l'80% dei soggetti affetti da OSAS non siano identificati come tali e pertanto non siano in cura per questa malattia si parla dell'80% eppure essendo l'obesità il maggiore fattore di rischio l'OSAS è significativamente presente anche in soggetti normopeso e a sua volta fattore di rischio ed è associata alle più frequenti cause di morte per ipertensione arteriosa e sistemica malattia coronarica scompenso cardiaco fibrillazione atriale nel mondo occidentale quindi l'OSAS la sindrome delle apnee ostruttive del sonno è una patologia che ancora non è abbastanza diagnosticata se addirittura l'80% di chi ne ha affetto non ha avuto una diagnosi di OSAS di questo tipo ed è chiaramente qualcosa che deve essere corretto in tutti i modi possibili e immaginabili e se ne parlerà si parlerà appunto della sindrome delle apnee ostruttive del sonno a Milano dal 22 al 24 gennaio 2018 quindi da lunedì a mercoledì prossimo al Doria Gran Hotel ripeto sipirs.it per avere tutte le informazioni a riguardo e l'ultimo l'ultimissimo evento di cui vi do conto è appunto quello che forse può interessare una platea magari non specialistica che è anche una platea che come dire medita molto che è molto interessata dagli argomenti di meditazione di yoga e si parla di stage di meditazione e presenza consapevole questo si terrà il 21 gennaio 2018 e si terrà appunto in questa data eccoci qua e si rivolge lo stage è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere un viaggio all'interno di sé per sgombrare la mente da troppi input esterni e che necessitano di ritrovare se stessi la propria serenità e l'armonia perduta quindi perché no di aumentare il proprio benessere e il eccolo qua il riferimento internet per per informarsi su questo evento è www.iltempiodigiada.org visto che abbiamo già in collegamento mattea per la rubrica della sfida alimentare direi che con gli eventi e anche perché questo era l'ultimo con gli eventi abbiamo terminato